Mutui Day con i soldi miei, questo lo slogan scelto dai risparmiatori dell'Associazione Vittime del Salva Banche in occasione appunto del Mutui Day, giorno dei mutui. Una giornata di apertura straordinaria dedicata alla consulenza e all'offerta del comparto mutui della nuova banca Etruria. Alcuni obbligazionisti si sono ritrovati di fronte alla sede storica dell'Istituto in Via Crispi ad Arezzo per manifestare tutto il loro dissenso e chiedere che i criteri con cui saranno ristorati vengano emanati. Fare una giornata dedicata al Mutui Day quando ancora la nostra situazione dei risparmiatori non è risolta a nostro avviso è un gesto che ci offende perché allora poteva aspettare qualche po' di tempo ridare, perlomeno ristorare chi è stato colpito veramente da questa cosa e poi ricominciare tutti insieme, noi, la nuova banca, tutto il territorio, insieme uniti una volta che era stata sistemata questa cosa e ripartire tutti insieme uniti e fare rinascere la nuova banca. Invece così, niente, noi ci stanno proprio snobbando, danno i mutui, fanno le offerte quando c'è gente che ha perso tutto e ancora non ha riavuto niente. Infatti noi abbiamo coniato questo slogan Mutui Day col Soldi Way. E tra le tante storie da raccontare anche quella di una signora che ha perso tutti i risparmi dei propri genitori e poi è andata a chiedere un mutuo ipotecario vitalizio sentendosi dire che è un prodotto che non è trattato. La storia di miei genitori che hanno appoggiato la banca fin dai primi albori della banca hanno investito in azioni e obbligazioni e oggi ci ritroviamo senza i risparmi di una vita. Siamo rimasti io e il babbo malato di Alzheimer e io l'assisto, non ho rinunciato al lavoro per questo e oggi sono venuta a chiedere un mutuo, esattamente un prestito ipotecario vitalizio e mi hanno detto che loro non hanno aderito a questo tipo di mutuo che è stato stabilito dal governo a dicembre, l'ultima emanazione di tutti i particolari e tutto quanto e quindi io non ho altro modo di accedere a mutui o prestiti se non questo che impegnava la casa e quindi non so come fare ora.